La Casa del Materasso nasce dieci anni fa, a ottobre facciamo i nostri primi dieci anni. Allora, premetto, la mia famiglia ha sempre lavorato nel settore dell'arredamento, io invece ho fatto altro, mi sono lavoreato, mi sono sposato, ho avuto dei figli, e poi dieci anni fa, con due amici, abbiamo pensato di intraprendere questa avventura. All'inizio è stata dura perché abbiamo aperto proprio quando la crisi era nel peggiore momento, quindi abbiamo pensato di chiudere, poi però siamo sempre riusciti ad andare avanti, a trovare gli stimoli per continuare. Collaboriamo con questa azienda toscana da sempre, la Dormi Bene, e che ci hanno anche dato una mano, ci hanno aiutato appunto ad andare avanti. e così siamo arrivati qui dieci anni dopo e stiamo sempre cercando nuove strategie per poter migliorare, per poter crescere. Collaboriamo con diverse aziende, la Dormi Bene per quanto riguarda i materassi, però poi collaboriamo anche con la Dorsal per le reti, la Vienaes per quanto riguarda i letti, la Demaflex che ci fornisce la biancheria, i guanciali. Vendiamo appunto tanti prodotti, tutto quello che riguarda appunto il sistema letto e per quello che riguarda il riposo. A noi vendiamo prodotti di qualità, sono tutti prodotti italiani, fatti bene e con dei buoni materiali. Un materasso, se non è fatto con delle buone schiume, se non è traspirante, elastico, fresco, inodore, se i tessuti non disperdono rapidamente, il calore, l'umidità, ma riposare bene diventa difficile. Mentre invece con questi materiali la ricerca continua ad andare avanti, ci sono sempre nuove soluzioni e quindi si riescono ad ottenere degli ottimi risultati quando i prodotti sono di qualità, quando sono costruiti bene. Quindi il mio consiglio è sempre quello di scegliere prodotti di qualità. Noi lavoriamo a Lissone, il nostro negozio è a Lissone e è una zona che, è una località che appunto offre molto, però appunto l'offerta è davvero... Abbiamo tanti concorrenti e quindi noi abbiamo sempre cercato di farci spazio puntando un po' anche su questa cosa, sui prezzi, facendo magari degli sconti un pochino più alti, offrendo magari delle... in collaborazione con l'azienda, facendo proprio delle campagne promozionali per cercare proprio di attirare il pubblico, di farci un portafoglio clienti e questa cosa è rimasta un pochino la nostra caratteristica. Prodotti made in Italy di qualità che però hanno anche un prezzo competitivo sicuramente. Noi offriamo proprio questa possibilità di avere un buon prodotto ad un prezzo competitivo interessante. Abbordabile, diciamo. Sì, abbiamo anche dispositivi medici, materassi, reti e guanciali dispositivo medico. Il Ministero della Sanità prevede questa possibilità per chi ha problemi di schiena, patologie della schiena, acquistare questi prodotti che prevedono la defiscalizzazione. Facciamo la fattura al cliente, nel 7,30 si può avere la restituzione in un'unica soluzione del 19%, quindi prodotti di qualità che garantiscono un buon riposo però anche con un prezzo appunto sempre interessante.